Mi chiamo Claudia, ho 26 anni e sono fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo. Avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020, dopodiché purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto rimandare. Ho scritto io a Tentation Island perché nell'ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l'arrivo del matrimonio ho delle paure realmente. Io voglio farle capire per l'ennesima volta la sicurezza che ho nel mio sentimento e la volontà che ho di sposarle.